A tradirlo è stato il nervosismo manifestato di fronte ai carabinieri, un atteggiamento sospetto per gli uomini dell'arma che hanno deciso di vederci chiaro. Così è finito nei guai un ragazzo barlettano di 19 anni tratto in arresto dai militari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate nel corso di un servizio antidroga predisposto nella città della disfida, dove una pattuglia ha notato il giovane, conosciuto dalle forze dell'ordine, mentre si aggirava in una strada del centro. Fermato per un normale controllo, il 19enne ha subito iniziato a manifestare un certo nervosismo, tanto da far insorgere nei carabinieri il dubbio che il giovane potesse nascondere degli stupefacenti. Un sospetto che ha convinto i militari a procedere con una perquisizione personale che ha dato immediatamente i suoi frutti. Il ragazzo nascondeva all'interno del suo giubbino ben 46 dosi di marijuana per un peso complessivo di quasi 100 grammi, oltre a 110 euro di banconoti di diverso taglio, ritenute il provento dell'attività di spaccio. Per il giovane è scattato subito l'arresto, condotto prima in caserma per le formalette di rito. Per lui si sono poi aperte le porte del carcere di Trani.